Questa qua è l'orfanella del giorno perché insomma ci sono sempre dei cani che hanno bisogno di adozione, è stata trovata ed è stata presa dalla signora della Lega, poi è stata operata, sterilizzata, ora chi la voglia, insomma è carina, è bionda, è giovane. Sì, è simpatica, è buona, è tranquilla come si può vedere e facciamo il solito appello di fine giornata per qualche buon cuore, chiaramente è un cane senza ship quindi se anche avesse un proprietario è impossibile da trovare, anche se io dubito che ci sia un proprietario vero, magari c'è qualcuno che dava un po' da mangiare ma non certo un proprietario perché ripeto sono animali questi che si vede che mancano diciamo di quello che è l'affetto, di quella che è la presenza di un proprietario, non ci dimentichiamo che il cane appunto è al contrario del gatto dipendente dalla persona, cioè è molto spesso, diciamo sappiamo che la vita media dei cani che vivono nel canile è di 3-4 anni e non è come si pensa colpa fra virgolette di chi tiene il canile o delle veterinari che magari non curano o non badano a questi cani ma la realtà è che il cane nel canile sta molto peggio che un bambino in orfanatrofio, cioè si sente proprio diciamo inutile e in questo modo la vita media si accorcia di molto, quindi questi cagnolini hanno bisogno del padrone. Bisogno di affetto, chi vuole prendere con sé questo cane e chi può rivolgersi? Ma sempre alla Lega, ad Arnalda, ad Iacon Arnalda o qualche altra diciamo volontaria e socia della Lega che comunque si conoscono tutte e diciamo lavorano all'unisono, quindi basta chiunque, Nunzia, Valentina, diciamo ce ne sono parecchie e basta chiedere a loro, anzi possono anche chiaramente telefonare qua e chiedere qua perché comunque anche noi abbiamo diciamo il filo diretto con Arnalda, quindi chiunque lo volesse, torniamo a dire che è sterilizzata, addirittura adesso non ho il collare ma hanno fatto fare una medaglietta proprio coscritto, sterilizzato proprio per cercare di togliere uno degli impicci, cioè dei problemi maggiori della femmina e quindi a questo punto veramente sarebbe una bella fortuna se si potesse trovare un proprietario, anche perché ripeto il cane è molto docile quindi credo che chiunque lo prenda si affezionerà all'animale.